Germania, giocatori con la mano alla bocca per protesta. Protesta forte e di gruppo da parte della Germania prima del fischio d'inizio della sfida contro il Giappone. C'era infatti attesa sulla possibile fascia OneLuv indossata da Neuer, ma la nazionale tedesca ha invece scelto un gesto di squadra contro la censura della FIFA. Poco prima del fischio d'inizio durante la classica foto di squadra, i giocatori di Flick hanno possato con la mano davanti alla bocca. Alludendo dunque all'impossibilità di esprimere la propria opinione, Neuer invece indossa una fascia con scritto no alla discriminazione. I capitani con la fascia OneLuv saranno ammoniti. Scontro FIFA nazionali DFB, i diritti umani non sono negoziabili un gesto che farà sicuramente discutere. Con la DFB che ha commentato il tutto sui propri canali ufficiali, con la nostra fascia da capitano abbiamo voluto dare l'esempio dei valori che viviamo in nazionale, diversità e rispetto reciproco. Siamo forti insieme ad altre nazioni. Non si tratta di un messaggio politico, i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere ovvio. Purtroppo non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Bandire le nostre opinioni dalla fascia è come bandirle dalla bocca. La nostra posizione è ferma. Virgola. Virgola.